In questa puntata del barpacco Osprey Exos Pro 55 litri Nightcore MH40 Pro Falkniven F1X in Elmax Ora ragazzi novità da parte di Campcraft Outdoors Savotta G-Hook Belt Le borracce in acciaio che stavamo aspettando E arrivano anche i nuovi colori dei prodotti termici Stanley Ciao sono Paolo di Backpacko e anche oggi un pacco di novità E benvenuti al barpacco l'appuntamento settimanale di ogni venerdì mattina Con tutte le novità, le iniziative e le promozioni di Backpacko.it Proprio da una promozione dobbiamo iniziare Perché è ancora attivo il codice per avere le spese di spedizione gratuite Su tutti gli ordini superiori ai 50 euro Per attivarlo è semplicissimo Vi basta inserire la parolina magica di ottobre che è Foliage E spariranno le spese di spedizione dal vostro carrello Così potrete portarvi a casa anche un paio dei nuovi buff in lana merino Che vedremo con calma magari la prossima settimana Ma intanto è il periodo perfetto Sono caldi, sono colorati e sono davvero confortevoli addosso E vi ricordo un po' anche il programma della settimana di Backpacko Il lunedì mattina esce il Backpackocast, il podcast degli avventurieri Il martedì sera una live speciale dedicata alle armi da fuoco Solo su live.backpacko.it Mentre il giovedì sera una live su tutti i canali social Dove parliamo di argomenti avventurosi con ospiti interessanti Il venerdì mattina si ricomincia col barpacco E il sabato alle 14 vitamina EDC Non questo sabato perché domani non ci sarà vitamina EDC Ma solitamente c'è In più tutti i giorni alle 20 una recensione completa sul canale YouTube Quindi con questo programma devi solo iscriverti al canale E schiacciare la campanella Così riceverai una notifica ogni volta che è pronto un nuovo video E non ti perderai nemmeno uno dei prossimi contenuti Osprey Exos Pro 55 litri Un nuovo arrivo sul catalogo di Backpacko Che è diventato il mio zaino per trekking lunghi preferito Ve lo dico subito L'Exos Pro è lo zaino ultralight più comodo nella sua categoria di peso Riesce a essere leggerissimo e nello stesso tempo strutturato E di nuovo comodo Non è scontato questo Di solito quando gli zaini diventano troppo leggeri Perdi in comodità di porto E per me questo non è tanto un buon affare Ci ho messo un po' per far arrivare l'Exos Pro sul catalogo di Backpacko Perché volevo testarlo molto approfonditamente Una delle mie preoccupazioni era che con l'utilizzo di materiali più leggeri Si arrivasse a perdere anche di resistenza all'usura di robustezza Quindi quello che vedete qui oggi è proprio il mio È quello che ho già usato per 4-5 trekking sulle nostre montagne Come faccio io? Cioè buttando lo zaino, poggiandolo dove capita Nonostante sia davvero uno zaino leggero Comodo e capiente È chiaramente compatibile con i sistemi di idratazione Lo schienale Ragazzi siamo in casa di Osprey Fa scuola Troviamo poi tasche elastiche ovunque Insomma ragazzi tutto quello che ci fa comodo Lo troviamo nell'Exos Pro 55 Se volete vederlo in azione Questo zaino potete dare un'occhiata al video Della mia escursione in Molise Di due giorni con l'amico Fernando E mi fa piacere di comunicarvi che è anche lo zaino che ha scelto Daniele Manno Per la spedizione in Monzambico Di cui parleremo tantissimo nei prossimi giorni Tornano tutte disponibili le borracce filtranti Grail su Backpack.it Una delle migliori soluzioni al mondo per filtrare l'acqua durante le escursioni, trekking e i viaggi Disponibile in diversi colori, dimensioni, materiali Ma soprattutto trovate anche i filtri di ricambio che potrebbero nel tempo servirvi Quindi lunga vita alla Grail Nightcore MH40 Pro La torcia che cambierà il modo in cui affrontate la notte Siamo all'interno di Lightpack Il nostro reparto tutto torce E questa evoluzione della famosissima Nightcore MH40 È semplicemente molto più potente della sua versione precedente Questo grazie alla nuova tecnologia LED UHI40 Progettato e implementato direttamente da Seasmax Che è la mamma di Nightcore come azienda Riesce a proiettare fino a 3500 lumens a grandissima profondità È ovviamente una torcia particolare Una torcia ideale per le emergenze Per l'attività di ricerca e soccorso Per i pattugliamenti Per la caccia E per l'autodifesa L'intensità luminosa che è in grado di erogare questa torcia Arriva a 423.000 candele Che sono tantissime Ed è ottima in tutte le attività dove hai bisogno di una torcia davvero potente Pensate che la gittata della MH40 Pro Io ci sto giocando su una parete Vuole sfondarla Arriva fino a 1300 metri Tutto grazie alla batteria ricaricabile di nuova generazione NBP100R Che ha una capacità di ben 10.000 mAh Ragazzi questa batteria è portentosa La dotazione è ricchissima A cominciare dal comando remoto wireless Posso ovviamente montarlo con gli strumenti Che trovate nella confezione Su fucile e sulle armi da fuoco E quello è lo scopo Sicuramente la fondina da cintura Tornerà utile ai più E posso agganciarla con un moschettoncino allo zaino Oppure perché no passo un cinturone Ma insieme al sistema di comando remoto Ci sono i suoi oggettini I suoi accessori per il fissaggio Li troviamo tutti qui Cavetto per la ricarica Manco a dirlo Velcro 3M adesivo Per fissarlo all'arma Slit a piccatini Perché è compatibile Anzi ne abbiamo due slit Laccetto di sicurezza che può servire O-ring di ricambio Questi sono davvero sempre utili E due velcro per bloccare eventualmente il comando Con il sistema passante in velcro Qui ragazzi dipende da come vogliamo organizzarci La torcia è ricchissima di giocattoli Quindi sta a noi capire come vogliamo portarla E questo martedì su YouTube Usciva la replica di Range Pack La nostra live settimanale sulle armi da fuoco Mentre su live.backpack.it C'è stata un'altra live in diretta E con l'amico Fabio di Outbreak Channel Abbiamo parlato del tiro a lunga distanza Quindi se anche tu vuoi diventare un cecchino come me Aspetta la replica Perché martedì alle 20 uscirà anche sul canale YouTube Falk Neven F1X in Elmax Un coltello che sa dare le sue grandissime soddisfazioni Siamo ovviamente all'interno di Blade Pack Il nostro reparto tutto lame Con un coltello da sopravvivenza serio Dico serio perché è importante Anche se su Backpacko arrivano solo prodotti seri Qui la sopravvivenza è lo scopo finale di questo coltello È il motivo per cui è stato inventato Per essere dato in dotazione nella sua versione originale Ai piloti dell'aeronautica svedese Ne abbiamo parlato altre volte Ma siamo di fronte ad un prodotto senza fronzoli In grado di tirarci fuori anche dalle situazioni più difficili Falk Neven è un'azienda svedese Che conosciamo bene su Backpacko E per me gli F1 Già il modello base Rappresenta il coltello perfetto Le dimensioni della lama La comodità con cui lo utilizzo Le capacità dovute alla sua robustezza Ne fanno praticamente uno dei coltelli Che porto in giro più spesso Rispetto all'F1 originale Come progetto, come geometria È leggermente più spesso Progettato proprio per resistere A tutte le sollecitazioni Che possano essere applicate dalla mano umana E si è voluto realizzare un coltello Che appoggiasse una nuova filosofia Sui coltelli di sopravvivenza Da sopravvivenza Insomma, non più i coltelloni giganti Per disboscare Ma qualcosa di piccolo Che sicuramente hai con te E che ti consente di fare quello che devi Non solo quello che fa tanta scena Queste versioni X sono in Elmax L'Elmax è un acciaio fantastico Inossidabile, tosto E con una tenuta del filo interessantissima X è disponibile in due finiture Una è satinata, bellissima L'altra altrettanto bella tattica Con una rivestimento a carburo di tungsteno Che, beh, è fighissimo così È davvero bello Giovedì ragazzi Finalmente abbiamo conosciuto Più da vicino I piani della squadra di avventurieri Che partirà a brevissimo Per il Monzambico I Monzambico Explorer Sono pronti a partire Se volete saperne di più Seguite l'avventura Sui canali social di Backpacko E ovviamente recuperate la live Sul canale YouTube Ospiti Daniele D'Alcanto Antonio Jebbia Milo E un sacco di altra Bellissima gente Ora ragazzi Novità da parte di Campcraft Outdoors Che è un nuovo brand Su Backpacko Direttamente dagli Stati Uniti Beh, realizzano accessori In stile classico Che però fanno comodo A tutti gli escursionisti Anche ai più moderni In differenti fogge E dimensioni Troviamo un sistema Per prefiltrare l'acqua In totale stile bushcraft Il prefiltraggio dell'acqua Io lo consiglio sempre Ne parlo spessissimo Perché allunga La vita del filtro E spesso è proprio fondamentale Quando raccogliamo un'acqua Che è particolarmente torbida E la presentiamo eventualmente Ad una borraccia grail Lei filtrerà Però allo stesso tempo Il filtro verrà attaccato Occluso da tutto il materiale In sospensione nell'acqua Ho dedicato proprio Una puntata Del Backpackocast Su come filtrare l'acqua In escursione E a mio avviso Un sistema di prefiltraggio Vi facilita la vita Ovviamente non sempre serve Ma io continuo ad usarlo Il filtro In questo modo Vive più a lungo Spendete di meno E soprattutto È più facile da usare Tornano disponibili Anche gli accendini Zippo Che stavate tutti aspettando Su Backpacko.it Mi raccomando Se vi piace qualche edizione limitata O in generale Se vi piace qualche Zippo Afferratelo subito Perché il catalogo Cambia costantemente Ogni anno escono nuovi modelli E quindi non è facile Tenere una continuità Se vedi qualcosa Che ti piace Beh clicca e portatela a casa Per essere sicuro di averla E per tutti quelli Che stanno organizzando Il proprio kit Del fuoco Il kit di emergenza Per le escursioni invernali Beh sono tornati disponibili Tutti i prodotti Di UCO O UCO Per gli amici Fiammiferi antivento Contro le intemperie Sistemi di accensione Per il fuoco Infallibili Non può mancare Nel tuo kit E presto credo Che aggiornerò Anche il mio kit Faremo una bella live Tutta dedicata A questo argomento E sì Ogni anno Cambio un po' Nel mio kit Per il fuoco La cintura Che stavamo Tutti aspettando E' arrivata E' già Arrivata Nelle case Di chi l'aveva preordinata Savotta G-Hook Belt Questa è la cintura Perfetta Per la vita Di tutti i giorni Addosso Non la sentite Accompagna i movimenti Del corpo E allo stesso tempo Se dovete agganciare Un multitool O qualcosa Vi dà supporto La regolazione Si direbbe oggi E' micrometrica Cioè la regolate Come vi pare Si fa così Si aggancia Il gancetto A G In acciaio E abbiamo risolto Dopodiché Regolate la larghezza Che vi serve E passate L'avanzo Di cinghietta Qui dietro Ma giusto Per non averlo Davanti Beh davanti Proprio le scatole Con questi semplici Accorgimenti Cintura tosta E comoda Da vestire Allora Le taglie disponibili Le state vedendo A schermo E ogni cintura Ha una Diciamo Circonferenza Utile Regolabile Guardate come L'allargo Effettivamente Di 20 cm Non di 10 cm Ma se voglio Fare le cose Per bene Io devo Mettermi Nelle condizioni Di gestire L'avanzo Di cinghietta Ecco Ora vi spiego meglio Vedete come L'ho regolata In questo modo E non voglio Che mi rimanga Tutta sta roba In giro Devo poterla Inserire Qui dietro Ed essere sicuro Di averla sistemata Ripeto L'idea è avere Questo tipo Di configurazione Ok Non Questo tipo Di configurazione Che pure Può succedere Però Diciamo Non è il progetto Originale È fatto Di componenti Che potete Scegliere In kit Oppure Singolarmente Quindi Non mi soffermo Adesso Su tutti i kit Tanto ritrovate Su backpacko.it Scegliete In base Alle vostre esigenze Cosa dovete Scegliere Innanzitutto Che tipo Di borraccia Desiderate Qui abbiamo Due borracce Sempre in acciaio Sempre un litro Circa La capacità Sempre Il tappo Con guarnizione All'interno A disposizione Sono borracce Che potete Tranquillamente Ovviamente Senza tappo Appoggiare Sul fuoco Ma se vi Dovesse servire Un sistema alternativo Per preparare L'acqua calda Trovate Le tazze Corredate O le gavette Col manico Pieghevole Entrambe Con i loro Bei coperchietti Con dei forellini Che servono Per scolare L'acqua Se sto preparando Dei buonissimi Noodles Compreso Il forno E letto La bush box Chiamatela Come vi pare Questo non è altro Che un bicchierone D'acciaio Tutto forato In cui voi inserite Rametti Combustibili vari E poggiate sopra Il gavettino O eventualmente Direttamente La borraccia Come mi porto Tutta sta roba Dietro Beh Si fa In questo modo Ecco Uno Due La matrioska Ve la dovete giocare Un attimo Con l'astuzia Richiudete Tutto Così E ho fatto E il coperchio Di solito Io lo metto Sotto A tutto Stessa cosa Qui dove Però devo ricordarmi Di sbloccare Il gavettino E a richiuderlo A scatto In questo modo Allora si Che posso Impilare il tutto Ecco qui E ho risolto E arrivano anche I nuovi colori Dei prodotti termici Stanley Stanley è un marchio Che su Backpack Ci fa sognare Garantisce il comfort E la comodità Delle nostre bevute Sia in outdoor Che durante i viaggi E perché no Durante la vita Di tutti i giorni Soprattutto Con prodotti Come le Legendary mug In questo periodo Arrivano nuove Colorazioni Ed è fantastico Poter bere La vostra bibita Il vostro caffè Il vostro tè La tisanina Della buonanotte Con calma E con le tazze Di Stanley È un prodotto Che apprezzo Tantissimo Perché ha una Bella base Solida E questo Mi evita Di farla cadere Mentre lavoro Al computer In più Riesco a bere A lungo Quello che mi piace Così come succede Con le bibite fresche Per cui Sono arrivati Nuovi colori Delle Go Quick Flip Queste borracce Termiche Mi vedete Usarle Praticamente Tutte le settimane Le adoro Sono solide Sono robuste Funzionano Benissimo Nella tenuta Termica E questo E questo Nuovo colore È per me Irresistibile Lo sapete Guardate che bella Tra l'altro L'abbinamento Nuovi colori Per i classici Formati Quasi mezzo litro La piccolina Questa va Sui 70 Centilitri Mentre quella Più grande Che non ho qui A disposizione Adesso Va intorno Al litro Ottimo sistema Per portare Delle bibite Sempre fresche In giro E anche calde Perché no E con questo Ragazzi è tutto Per questa puntata Del varpacco Noi ci vediamo In giro Tutta la settimana Domani purtroppo Non ci sarà Vitamina e dc Ma già domenica sera Una nuova cronica Delle nostre ultime avventure In poligono Vediamo come è andata Come stai? Tutto bene E poi si ricomincia Lunedì mattina Con il BackpackoCast Si parla di prepping Come gestire Le scorte d'acqua E ancora Martedì sera Una live Torneremo a lavorare Su live.backpacko.it Sulla mia carabina AR15 Che è il momento Di mettere le mani E di iniziare a modificarla Se vuoi seguire Tutta la serie È già a disposizione La prima puntata Del progetto Sul canale youtube Di Backpacko Detto questo ragazzi Grazie per essere stati con me Come al solito Grazie perché preferite Backpacko La community cresce E io conosco sempre Persone meravigliose Se il backpacko Ti è piaciuto Lascia un bel mi piace Qui sotto E fammelo sapere Con un commento Che sarà un piacere E conoscerci E scambiare due chiacchiere Noi ci vediamo in giro Anche sugli altri social Alla prossima